Il centro storico è diventato il teatro di tutte le aggressioni dell'ultimo anno. Siamo preoccupati. A Benevento il comitato di quartiere torna a chiedere aiuto dopo l'episodio registrato nel fine settimana lungo corso Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione un trentenne di nazionalità marocchina avrebbe palpeggiato una ragazza che stava passeggiando lungo il corso in compagnia del fidanzato. Un 25enne della provincia che si sarebbe mosso in sua difesa generando poi una colluttazione in cui sarebbero rimasti feriti il marocchino trasportato al Sampio ed un amico del fidanzato della giovane colpito con un coltello dal presunto molestatore, anche egli costretto a ricorrere alle cure dei medici. Il presidente del comitato di quartiere dunque incalza. C'è un grave problema e nonostante i controlli siano stati intensificati probabilmente occorre il coinvolgimento del comune con azioni mirate. È necessario regolamentare questa movida, è necessario rendere più sicuro il centro storico attraverso l'utilizzo delle telecamere, attraverso l'utilizzo delle barriere e i varchi di accesso, rendere sempre transitabili i vicoli. Ecco io invito tutti a fare un giro il sabato, il venerdì e la domenica presso il centro storico e vedere come in alcuni vicoli non è possibile far passare né un'autovettura della polizia o dei carabinieri né tantomeno purtroppo un'ambulanza. Siamo davvero spaventati ribadisce nell'auspicare un intervento risolutivo. La percezione dei cittadini della sicurezza è ormai ai minimi storici. Noi ci sentiamo abbandonati, in preda ad una movida violenta, non più sicuri di vivere nel centro storico.